Sam e il multibosco sotto sopra è veramente ma ci sono i disegni c'è la pericola che carina grazie veramente lei stra gentile stra dolce anche in EDM veramente una persona magnifica e sono sicura che anche il libro sarà magnifico ora vi faccio vedere bene gli interni la copertina perché meritano è proprio bello questa è la copertina piena piena di dettagli e questo è il retro vabbè ora hanno il filtro lasciate perdere stoppate per leggere guardate gli interni ci sono tantissimi disegni wow tantissimi disegni dettagli è fatto benissimo veramente e poi è scritto wow mi sono già innamorato è scritto veramente in grande secondo me sarà strascorrevole e quindi grazie mille veramente per l'opportunità per il libro e anche per questo regalo che l'ho aggiunto molto molto bello devo dire ecco questa penso sia una foglia molto molto bella ciao amici oggi stocchettiamo con questo pacco grazie a tutti